Il signor Kegel era un medico molto attento alla salute anche dei muscoli che chiudono in basso il bacino. In particolare il dottor Kegel si era accorto addirittura negli anni 50 che le donne dopo il parto perdono tono muscolare in questi muscoli fondamentali per almeno due funzioni. Una è la continenza, in altre parole la capacità di trattenere volontariamente l'urina ma anche le feci e l'altra era la capacità di partecipare al rapporto sessuale e trarne molto piacere perché i muscoli che chiudono in basso il bacino sono quelli che si contraggono durante la componente motoria dell'orgasmo. Ecco che allora il dottor Kegel ha cominciato a insegnare alle pazienti questa ginnastica che viene detta appunto esercizi di Kegel che aiutano le donne a ritrovare la competenza muscolare, il tono muscolare dopo il parto. In Francia lo fanno di routine subito dopo il parto in tutti gli ospedali pubblici, in Italia siamo ancora lontani. Per chi volesse farlo per i fatti suoi, attenzione, un messaggio molto importante, quando voi contraete questi muscoli contate per esempio fino a 5 ma mi raccomando poi dovete fare una pausa contando fino a 10. Perché? Perché il muscolo ha bisogno di una pausa dopo la contrazione doppia rispetto al tempo di contrazione. Questa pausa è fondamentale perché il muscolo possa essere ossigenato e quindi possa essere nutrito e mantenere un tono appropriato. Se invece come tante ragazzine fanno la contrazione viene fatta a questa maniera, veloce, 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 il risultato è patologico. State attente, non vi migliora l'orgasmo, anzi il muscolo va in ipertono, in contrazione eccessiva e questo può causare la cosiddetta dispareunia di Kegel. Ossia che cosa? Dolore ai rapporti perché il muscolo è diventato troppo stretto, troppo rigido, troppo contratto ed ecco che allora un esercizio amico diventa nemico perché fatto male. Quindi ricordatevi, la contrazione deve essere per esempio di 5 secondi o contando fino a 5, ma la pausa sempre del doppio del tempo di contrazione.